Parte la festa dell'unità a Vallefoglia, un incontro molto interessante sulle prospettive per un PD forte e popolare. Quali i temi? Di cosa si parla? Si parla intanto di un rapporto con la comunità, con i cittadini, con i territori e gli eletti dei cittadini, oltre che i dirigenti di un partito che deve essere ricostruito con un grande partito popolare di massa radicato che ha rapporti con tutti i settori della vita sociale ed economica di questo territorio. Io devo dire che ho alternato la mia non breve esperienza fra esperienze di governo comunale, provinciale, vita parlamentare e direzione politica di un grande partito popolare. Io ho diretto il Partito Comunista Italiano della provincia di Pesaro Urbino ai tempi d'oro di una grande organizzazione e poi il Partito Democratico delle Marche che ha avuto importanti successi nel governo della comunità regionale ed un forte radicamento in tutte le valli delle Marche. Quindi diciamo i temi del lavoro, i temi dell'occupazione, i temi della tutela della salute della comunità, i temi di una precarietà diffusa, i temi dell'inclusione sociale, cioè i temi che riguardano i cittadini. Alla ripresa, oramai siamo i primi di settembre, diciamo di un autunno che nonostante le promesse elettorali sia nelle Marche, diciamo che oramai sono tre anni di governo, sia a livello nazionale è un pollolare di aumenti dei prezzi, non c'è un'azione di governo forte per porre fine a questa difficoltà delle classi più deboli, dei lavoratrici, degli operai, degli impiegati, del ceto medio, dei pensionati, eccetera. E quindi la ripresa di un'attività politica nel centro, nel cuore di una vallata come Montecchio di Vallefoglia è una segnale forte di un partito che vuole ritornare in campo con grande forza, sia a livello regionale che nel territorio nazionale. Sono molte le feste, per fortuna c'è una ripresa anche di militanza, è questo che ci rende per chi come me viene da una lunga storia politica anche un po' orgogliosi. Iniziano tre giornate qui a Vallefoglia, momenti di confronto, momenti di dibattito, non solo di divertimento, il tutto sempre con un rispetto reciproco che negli ultimi giorni è stato un tema molto dibattuto. Guardi, io penso che il Partito Democratico abbia bisogno di unità per essere più forte, ma questo vale in generale. che non vuol dire azzerare o sottacere il dibattito interno perché è un grande partito, ha il dovere di essere un partito plurale, altrimenti non sarebbe un grande partito. Dopodiché va sempre ricordato che chi ci guarda si aspetta da noi un di più di rispetto e unità, perché poi alla fine la condizione di forza nostra è quella anche di diventare più attrattivi verso eventuali e possibili alleati. Quindi spero che questa sia la cifra del confronto in ogni parte del Paese.